E bentornata gente, siamo in un nuovo video, siamo sullo speciale carnevale E ovviamente lo faremo in un gioco horror Sulla Five Nights 4D4 ci sta, è logico Halloween, cosa c'entra con... Cioè Halloween L'horror cosa c'entra con il carnevale, non lo so Perché... Comunque oggi facciamo la notte 5 Stavolta sono e soltanto notte 5 Non sto usando la webcam perché... No, in verità perché sto avendo un po' di problemi con la webcam E mi dispiace, non ci tenevo a farlo con la webcam Ovviamente qui non parte, quindi siamo sempre nella confusione Oddio, ok, abbiamo iniziato Volume basso Oddio, metto le cuffie No, no, corri No, 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 no Oddio, che casino Allora Oddio Oh, no, 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 no Giù le cuffie No, ok Ok Alzo un po' il volume perché così non si capisce niente però Oddio Oddio Santo cielo Oh, porca miseria Ok Così si può sentire Ok C'è un tentativo inutile Di vittoria come sempre Perché io sono sempre sfortunato ma Questo ormai Voi 57 iscritti 58 Che mi seguite Già Da Il primo video No, dal primo forse no Però capite subito che è una C'è che sono sempre sfortunato in ogni cosa Le sfortuna regna Allora Stiamo Vediamo qui che c'è Ok Qua non c'è nessuno È una cosa molto buona Perché Non sopravvivere sei ore Perché io lo sa E io neanche riesco a sopravvivere Sette Oh No Uno Due Tre Quattro Addio Ok Buono Qua non c'è Ah Dove sarà Chissà dove sarà Ancora qui Uno Due Ok Basta Mi sono preso paura No 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 Via 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 Tu devi andare via No Devi capire La vita Di tutte le persone Di questo buon mondo Che dovete andare via Dalla mia camera No È la prima volta che riesco a farcela No No Non stai Oh è l'una Buono Buono È l'una No 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 Ok È lì Buono Ma perché avevo paura che fosse nell'armadio E se era No Se era così Morivo male Quindi Buono Allora andiamo qua Non è qua Oh no 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 Paura Oh paura Fortuna Sono stati fortunato Fortunatissimi Oh buono C'è più Sei andato Buono buono Adesso Adesso me lo trovo davanti Praticamente noi dobbiamo stare attenti Che sto qua non ci entri nella camera Come è successo prima Che c'è già un schierato Mi prendo paura Dobbiamo stare assolutamente attentissimi Perché se no Qui Andiamo Andiamo male Male Molto male Oddio Andiamo molto male Ma io Ogni volta che Accendo e spingo la Buce Ok Allora Sei qui No 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 Sono le due Porco miseriaccio No No Oddio 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 Santa miseriaccia Ok Avevo le cuffie Si è sentita un po' con le cuffie Ma mi sono Non perci Oddio Oddio Santo cielo Ok Ok Calmi Pace Adesso Preghiamo Mentre qua fa Io Per favore Aiutami tu Allora Ok Siamo partiti Ancora Un'altra notte Sei qua vero? Non sei qua No Non va bene Cos'è stato Mi sto allantanando Dalla sedia Perché ho sedie Cosa ho fatto Cos'ho fatto di male Io Cos'ho fatto di male Per meritarmi questo Cos'ho fatto No Vuoi spiegarmi Che cosa ho fatto io di male? Ma lo vuoi Me lo vuoi spiegare? Ma perché? Perché tu mi fai questo? Cosa? Ma perché? No Non è giusto No Ok Notte 5 Ancora Io Cioè Dal primo video di Fine Night At Freddy's Di Fine Night At Wario Che è il primo Fine Night At Freddy's Che ho fatto E Da lì Subito Ma Da quel momento Si capiva già Tutta la trama Della mia scarsità O se si dice così Non lo so Nei videogiochi horror Perché io Faccio completamente schifo Allora Andiamo No no Ho fatto No no Ho fatto una brutta No no Perché? No Aiuto Allontanarsi Lentamente Mentre Muore No 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 Maledetta Schiafosa È anche un maschio Però Caso a parte Allora No ma no Ma non è possibile Ma perché faccio così schifo? Cioè Non so È facile Non riesco Ma in realtà È abbastanza difficile Non so come ho fatto A completare La notte 1 La notte 2 La notte 3 La notte 4 La notte 5 La notte 5 Non l'ho ancora completata Non so come ho fatto Finire Final Fantasy 2 Finire Diciamo Tra virgolette Non so come ho fatto Quasi finire No A finire Final Fantasy 3 Iniziata Oddio No no Non è possibile Questa No 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 Dai ma perché Parto così Nessuno YouTube Italia... Ok, è buono. Che ricca miseriazza, ma chi ti vuole? Perché eri lì? Cioè, tu non eri la destra e la sinistra. Perché tu eri lì? Boh. Ok, a parte che sono partito malissimo, cioè, stavo spiegando delle mie ex avventure in Final Fantasy Freddy e qua intanto era già iniziato da mezz'ora, erano già le cinque. Magari, magari. Allora, ragazzi, volevo... Adesso facciamo l'ultima partita, ma volevo dirvi una cosa che ho momentaneamente, adesso, aperto sul mio profilo di Instagram. Quindi, se volete capire che cos'è... Beh, ovviamente ve lo metterò in descrizione, il profilo. Io sono a Montaltino2004, nome... Ma perché? Ma perché queste cose? Ma... Cioè, non devo parlare. Ho capito che parlare mi porta a sfortuna. Comunque... No, sono montati nel 2004, quindi su Instagram ho messo da poco un post chiamato con l'hashtag sotto chefuck, che non è una parolaccia. e praticamente qui, voi, sotto questo posto o dove volete, anche qui nei commenti di questo video, nella descrizione del canale, discussione del canale, potete dirmi sotto l'hashtag chefuck, che domande... che domande fare? Che domande devo rispondere? Voi mi fate una domanda, non so... Che scuola frequenti? Adesso, non da stalk. Però, cosa... Non so... Hai un animale domestico? Hai un... Non lo so quello che è. Voi fatemi tutte le domande poss... Ma dov'è? Oh, no? No! Ok. Più possibili e inimmaginabili del mondo, me le fate e io sotto un video chiamato chefuck le risponderò e quindi se... Quindi, sicuramente citate, cioè, vi mostrerò proprio chi... Cito chi l'ha scritto, chi ha fatto, tutto. Così, praticamente, vi pubblicizzo, ditela come volete, vi spammo, come... Chiamatelo come volete. Adesso facciamo una partita... Questa la voglio vincere. Punto. Vediamo un po'. La perdo, la perdo, la perdo. Mi sono preso paura. Ok, allora, vediamo. Uno, due, tre, via, non c'è più. Eh, l'ho fregato, l'ho fregato. quindi, tu adesso, se la logica mi vuole bene, dovresti essere... Qua si sei qua, brutto schiantato, Fredbear, che per chi non sa la storia di questo video, oddio, di questo gioco, Fredbear sarebbe il pupazzo, migliore amico, di questo bambino pazzo, che sta facendo, questo terribile incubo, ha fatto una brutta cosa, terribile incubo, e sarebbe il migliore amico, però, in versione incubo, perché, nella realtà, l'avrà, l'ha mangiato. Esattamente, lui è sotto una grave malattia, ha subito un mo', il morso dell'87, quindi, tra pochi giorni uscirà anche una teoria sul morso dell'87, ho paura, il morso dell'87, quindi, no, era così per dire, no, 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 devo stare zitto, adesso faccio l'ultima partita, e basta, ecco, punto, punto, anzi, no, ho poco tempo, devo andare via in sera, o porca miseria, beh, comunque, ragazzi, l'episodio finisce qui, mi invito lasciare like, per questo, sfortunato, ma come al solito, cioè, non c'è bisogno, che sia speciale o non speciale, tanto, sono sempre sfortunato, io, e, questo quindi, era lo speciale, carnevale, 2016, esattamente, questo video, uscirà, alla sera, del, oddio, dell'8, dell'8, dell'8 febbraio, 2016, però, diciamo che, lo guarderete sicuramente l'8, dal, no, cioè, no, dal 9 in poi, quindi ragazzi, il video è finito, mi invito a lasciare un bel like, per supportare la serie, e, scrivete sotto l'hashtag, chefac, iscrivetevi al canale, e, e, ciao a tutti!